Eccoci, buongiorno a tutti, l'Europa Direct Roma Innovazione vi dà il buongiorno e il benvenuto a questo webinar che abbiamo organizzato in collaborazione con la Commissione Europea, con la DG Occupazione della Commissione. Stiamo prendendo un attimo di tempo per dare a tutti i partecipanti la possibilità di entrare in piattaforma, vorrei darvi prima alcune comunicazioni di servizio, vi ricordo che potete, spero che non ci siano problemi di audio e che ci sentiate bene e quindi potete eventualmente segnalarci eventuali problemi nella chatta e vi ricordo anche che questo webinar è registrato, per cui la registrazione sarà disponibile a più tardi a partire da lunedì sulla pagina dell'evento e quindi unitamente alla presentazione avrete accesso, potete disporre anche di tutte le slide, di tutte le presentazioni. Questo webinar lo abbiamo dedicato a un tema assolutamente di grande importanza, anche un tema abbastanza nuovo che è il pilastro europeo dei diritti sociali, è un tema che ci sta molto a cuore soprattutto sia per la strategicità e l'importanza del tema, anche perché è un tema abbastanza nuovo, ricordiamo che il pilastro europeo è stato adottato a novembre del 2017, quindi è una novità abbastanza importante che grazie alle colleghe della Commissione e della rappresentanza della Commissione in Italia approfondiremo e impareremo a capire appunto che cosa prevede questo quadro di riferimento per le politiche sociali della Commissione europea. Questo webinar è il quarto appuntamento di un ciclo che il Europa Direct Roma Innovazione ha dedicato al tema delle politiche e dei finanziamenti europei, i prossimi appuntamenti li vedete qui che durati il 14 giugno, quindi venerdì prossimo dedicheremo, tratteremo insieme all'Agenzia della coesione territoriale il tema della programmazione 14-20, ma soprattutto con uno sguardo volto al prossimo periodo di programmazione 21-27 e poi come vedete ci sono in programmazione un webinar sui finanziamenti diretti, quindi fondamentalmente sui programmi tematici della Commissione e l'assistenza esterna. Le date sono ancora in programmazione, in via di definizione, quindi ve ne daremo comunicazione e pubblicizzeremo appena saranno definite. Vi ricordiamo anche un altro appuntamento che sarà debitamente pubblicizzato e diffuso appena sarà definita la data, si svolgerà presso il CNEL in collaborazione con un altro Europa Direct attivo nel Lazio e probabilmente si svolgerà a inizio luglio, è un dialogo con i cittadini, quindi un evento in presenza con cui coinvolgeremo i cittadini nella riflessione sul futuro del progetto europeo, quindi fondamentalmente sul futuro del bilancio e delle priorità che secondo i cittadini bisogna, questo il prossimo quadro finanziario pluriennale dovrà avere. Io non vorrei sottrarre tempo al tema, quindi prima di dare la parola alle colleghe della Commissione per entrare nel merito della trattazione del pilastro europeo dei diritti sociali, vorrei rapidissimamente ripercorrere o comunque richiamare e fare una panoramica su quelli che sono gli strumenti che Europa Direct e Roma Innovazione utilizza per divulgare e avvicinare quanto più possibile il cittadino all'Unione Europea, quindi per divulgare le informazioni sull'Unione, sulle politiche, sulle opportunità, come sapete e lo ricordo anche per coloro che fossero nuovi utenti, disponiamo di uno sportello informativo in cui il cittadino proprio ci può raggiungere fisicamente o un contact center, quindi siamo raggiungibili anche telefonicamente da lunedì al venerdì per erogare tutte le informazioni e per rispondere ai requisiti che i cittadini possono avere e poi organizziamo attività online come questo ciclo di webinar o attività in presenza, quindi giornate informative sulle opportunità, sui finanziamenti europei. E poi abbiamo due canali tematici che sono il canale Europa.forma.it e programmi comunitari su cui rispettivamente regoliamo tutte le informazioni che possono, in merito alle politiche europee, alle iniziative della Commissione, tutte le informazioni che possono essere di interesse per i cittadini e invece in programmi comunitari le informazioni più specificamente afferenti che riguardano i finanziamenti diretti, quindi i programmi tematici. In programmi comunitari abbiamo proprio delle schede per ciascun programma della programmazione dei 14-20 in cui appunto il cittadino può cliccare e avere accesso a tutte le informazioni e anche ai link ai punti di contatto nazionale che per ciascun programma sono previsti per erogare informazioni un po' più puntuali e di dettaglio. Abbiamo anche una newsletter con un cadenza mensile in cui mettiamo in evidenza un set di notizie di interesse per i cittadini, vi ricordiamo che per ricevere la newsletter chi ancora non fosse presente nella nostra mailing list può mandare una mail a europedirect.formes.it per appunto richiedere l'inserimento nella mailing list. Io non vorrei rubare altro tempo prezioso e direi di entrare subito nel merito del tema e quindi darei la parola a Claudia De Stefanis, della rappresentanza della Commissione in Italia per appunto introdurre le sue colleghe della Commissione. A te Claudia, grazie. Grazie Raffaella, buongiorno a tutti. Sono Claudia De Stefanis, sono la responsabile comunicazione della rappresentanza in Italia della Commissione europea, oggi tra il pubblico abbiamo la nostra rete di centri di informazione Europe Direct che mi conosce ma per chi non conoscesse i compiti della rappresentanza in Italia della Commissione europea sono essenzialmente due, quello di comunicare l'Italia in Europa e quindi far conoscere a Bruxelles lo Stato, la situazione politica, economica e sociale del nostro paese però dall'altro lato c'è quello di comunicare l'Europa in Italia e quindi far conoscere ai cittadini le politiche, le priorità dell'Unione e anche le opportunità. A marzo in una riunione dei capi comunicazione a Bruxelles si è parlato di comunicazione nel pilastro europeo dei diritti sociali e ho pensato che sarebbe stata una buona idea dare l'opportunità anche appunto ai nostri centri Europe Direct e poi si è deciso di estendere anche ad un pubblico della pubblica amministrazione italiana l'opportunità di conoscere meglio, se ne sente parlare ma poi di fatto non sappiamo bene di che cosa si tratti e invece è un tema importantissimo perché investire nelle persone e rafforzare la dimensione sociale dell'Europa sono praticamente tra le priorità fondamentali della Commissione Juncker sin dal suo inizio e lungo tutto il mandato era già indicata questa intenzione di rafforzare la dimensione sociale dell'Europa negli orientamenti politici della Commissione Juncker quindi all'inizio proprio dell'ancora prima di essere confermata dal Parlamento europeo e quanto siano stati prioritari, quanto siano prioritari questi due aspetti investire nelle persone e rafforzare la dimensione sociale dell'Europa emerge ancora di più dalle recentissime proposte della Commissione europea relative al quadro finanziario pluriannale o meglio il bilancio a lungo termine dell'Unione europea proposte che a partire dal 2 maggio quando è stata presentata la proposta generale sul bilancio sono presentate praticamente ogni settimana e recentissimamente 8 giorni fa è stato presentato un pacchetto di proposte che riguarda proprio temi sociali e che quindi in parte verranno affrontate oggi dalle colleghe della Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e Inclusione credo proprio che si parlerà di questo nuovo fondo sociale europeo plus che ha degli obiettivi molto importanti cioè che le persone abbiano le giuste competenze che siano dotate, diciamo che la protezione sociale sia adeguata alle nuove forme di lavoro e che le persone che hanno più bisogno godano della solidarietà di cui l'Unione europea è capace questi tre aspetti sono il mondo sociale europeo plus e quindi questo tema è sicuramente al centro dell'attenzione queste proposte della Commissione presentate recentemente nell'ambito delle proposte relative al quadro finanziario pluriannale per il periodo 2021-2027 sono parte dell'attuazione concreta del pilastro europeo dei diritti sociali che è stato proclamato a Goteborg alla fine del 2017, a novembre 2017 una carta con 20 diritti da realizzare proprio per rendere più eco il mercato del lavoro e i sistemi di protezione sociale in Europa e per parlarci del pilastro europeo dei diritti sociali, dei nuovi fondi e del contesto italiano sono presenti oggi in collegamento due colleghe appunto della Direzione Generale Occupazione Affari Sociali e Inclusione sono Annelisa Cotone che è Policy Officer nell'unità responsabile del coordinamento della sicurezza sociale e Ciscia Mattina che è Vice Capo Unità Italia, Danimarca e Svezia nella direzione che si occupa delle competenze quindi le vorrei ringraziare per aver accettato l'invito a parlare cedo la parola ad Annelisa Cotone e ricordo a tutti coloro che volessero poi porre delle domande che è possibile farle nella chat e al termine di ciascun intervento prenderemo le domande più significative e le colleghe ovviamente daranno una risposta. Grazie e la parola ad Annelisa Cotone Ok, buongiorno a tutti, mi sentite? Tutto a posto? Allora, come appunto accennava la collega Claudia De Stefani il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali è un'iniziativa chiave della Commissione Juncker che riporta la dimensione sociale al centro dell'agenda europea grazie appunto a 20 principi e diritti che delineano un quadro di riferimento per l'azione dell'Unione Europea, della Commissione ma anche e soprattutto degli Stati membri Dunque, nella mia presentazione vorrei dividerla in due parti una parte dove parlerò del contesto di questa iniziativa il contesto politico, sociale e economico da dove viene questa iniziativa e qual è stato il processo per preparare il pilastro e poi in che cosa consiste questo pilastro effettivamente la seconda parte invece la dedicherò all'attuazione del pilastro in pratica e quindi parlerò degli strumenti che sono a disposizione dell'Unione Europea e parlerò anche del ruolo degli Stati membri e delle parti sociali la mia collega invece Cinzia approfondirà il contesto italiano e come il pilastro si collega al contesto italiano e parlerà soprattutto del semestre europeo e del quadro finanziario Allora, per cominciare dunque, il pilastro europeo si rientra in un contesto di affrontare le conseguenze della crisi e allo stesso tempo guardare oltre la crisi e prepararsi alle sfide del futuro che già però sono visibili oggi ci sono stati recentemente dei miglioramenti in generale nell'Unione Europea delle condizioni economiche e sociali però ci sono degli strascichi importanti della crisi recente che vanno dalla disoccupazione giovanile e di lunga durata al rischio di povertà in molte parti d'Europa e crescenti disuguaglianze inoltre ci sono delle divergenze notevoli tra paesi e all'interno dei paesi divergenze notevoli anche tra regioni inoltre non ci sono solo le conseguenze della crisi ma rapidi cambiamenti nella società, nel mondo del lavoro e a livello globale e questi cambiamenti sono delle sfide per l'Unione Europea e per tutti gli Stati membri anche se incidono poi in maniera diversa questi cambiamenti riguardano le nuove forme di lavoro nuovi modi di organizzare la società sfide come la globalizzazione, la rivoluzione digitale l'allungamento della vita lavorativa e un paradosso tra livelli di istruzione sempre più alti però poi diciamo uno squilibrio tra domanda e offerta di competenze ecco quindi come dicevo prima la priorità è riportare il sociale nel cuore dell'iniziativa europea e questo come ha ricordato la collega è veramente stato un segno importante fin dall'inizio di questa commissione nel 2014 il pilastro quindi ha origine in questo contesto e più specificatamente è stato il presidente Juncker nel 2015 parlando di fronte al Parlamento Europeo a annunciare la sua volontà di creare un pilastro europeo dei diritti sociali quello che lui ha detto lo vorrei appunto riferire qui perché è significativo per capire poi come è stata sviluppata questa iniziativa Juncker ha detto che dobbiamo intensificare i lavori per un mercato del lavoro equo e paneuropeo questo pilastro deve tenere conto delle mutevoli realtà della società e del mondo del lavoro e deve fungere da bussola per una rinnovata convergenza nella zona euro il pilastro dovrebbe integrare i risultati che abbiamo già raggiunto in materia di protezione dei lavoratori e le parti sociali devono svolgere un ruolo centrale in questo processo mi sono soffermata su queste parole perché sono significative poi per capire come questa iniziativa si è sviluppata quindi come abbiamo visto per concludere la parte relativa al contesto abbiamo visto che si tratta di superare la crisi e guardare oltre un attimo che attivo anche la slide quindi superare la crisi e guardare oltre creare un'economia sociale di mercato altamente competitiva e anche un'unione economica e monetaria più equa e più profonda vi è un consenso globale sulla necessità di rafforzare il rapporto tra sviluppo economico sociale e ambientale c'è un consenso che dice che le disuguaglianze ostacolano lo sviluppo economico e bisogna costruire un modello di crescita più inclusivo e questo è veramente alla base del concetto e della visione del pilastro europeo nelle economie avanzate la performance sociale e quella economica sono due facce della stessa medaglia e questo è un fondamento proprio del concetto stesso del pilastro dove vediamo il sociale e la parte economica integrate insieme e non opposte l'uno all'altra ecco, quindi questo pilastro è concepito in quest'ottica di una politica sociale che deve essere un fattore produttivo in grado di ridurre disuguaglianze massimizzare la creazione di posti di lavoro e investire nelle persone l'investimento nelle persone è veramente un aspetto fondamentale nel pilastro la politica sociale deve prevenire rischi proteggere le persone creare reti di sicurezza efficaci ma anche incentivi a accedere al mercato del lavoro o reintegrarsi nel mercato del lavoro e nella società vivere dignitosamente essere mobili poter cambiare il proprio status personale e professionale nel corso della vita e sfruttare al massimo le proprie capacità queste sfide sono ancora più accentuate quando parliamo di unione economica e monetaria perché gli ultimi 15 anni hanno dimostrato che quando ci sono squilibri in un paese ci sono conseguenze per la stabilità di tutta l'unione economica e monetaria e quindi non è solo un imperativo sociale politico ma anche un imperativo economico andare a attivare un processo di convergenza dei paesi verso risultati migliori dal punto di vista occupazionale e sociale perché se ci sono divergenze eccessive a livello europeo nei mercati del lavoro e le performance sociali c'è un pericolo per il funzionamento di tutta la zona euro e quindi per noi è chiaro che il successo della zona euro dipende in misura notevole dall'efficacia dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale di veramente svolgere il loro ruolo di protezione e di investimento nelle persone questo pilastro è nell'interesse questa visione è nell'interesse di tutti perché le imprese hanno un interesse a operare in un ambiente economico con regole chiare riuscire ad attirare lavoratori qualificati e produttivi e adattarsi rapidamente al mondo che cambia i lavoratori hanno un interesse ad avere un lavoro un reddito sicuro riconciliare vita professionale vita privata accettare nuove sfide adattarsi nel corso delle carriere e continuare ad acquisire delle competenze nel corso praticamente di tutta la loro vita quindi in breve per concludere questa parte di contesto una motivazione politica i cittadini chiedono agli stati e all'Europa di occuparsi di sociale e di rispondere a paure e bisogni in modo concreto una motivazione sociale perché l'Europa è anche fondata su valori giustizia sociale e il pilastro quindi con questi 20 principi e diritti esplicita questa visione comune di giustizia sociale e una motivazione economica soprattutto per il buon funzionamento dell'area euro passo adesso al processo che ha portato alla creazione di questo pilastro dunque abbiamo avuto una prima bozza nel 2016 che ha avviato una lunga e intensa fase di consultazione pubblica che ha coinvolto le istituzioni europee gli stati membri autorità pubbliche a tutti i livelli regionali locali nazionali anche le parti sociali sono state coinvolte molto e la società civile al termine di questa consultazione la commissione nell'aprile del 2017 ha presentato la bozza definitiva del pilastro tenendo conto appunto dell'input che è stato ricevuto durante la consultazione la consultazione ha espresso in generale un consenso e un sostegno all'istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali allo stesso tempo è stato confermato che le sfide economiche e quelle sociali sono interconnesse e richiedono un'azione coerente a tutti i livelli un altro messaggio importante è stato però di rispettare la divisione di responsabilità tra stati Unione Europea stati livello regionale e locale quindi è stato espresso un no all'armonizzazione delle politiche sociali nell'Unione Europea e quindi un'azione che deve avvenire a tutti i livelli ecco sempre per parlare di processo dopo l'aprile 2017 c'è stata un'intensa fase di negoziazione a livello interistituzionale che ha portato alla proclamazione nel novembre dell'anno scorso la proclamazione congiunta del pilastro da parte di Parlamento Europeo Consiglio rappresentante degli stati membri e la commissione la proclamazione è importante perché perché dà un segno politico molto importante e forte di unità di unità e consenso nei confronti di questo insieme di 20 principi e diritti a seguito di questo il consiglio europeo quindi capi di stato e di governo nel dicembre dell'anno scorso hanno sottolineato che il pilastro deve essere attuato a livello dell'unione e degli stati membri tenendo in conto delle rispettive competenze il consiglio europeo ha anche invitato la commissione a proporre un monitoraggio del pilastro e questo è avvenuto nel marzo di quest'anno quando la commissione ha presentato un quadro per il monitoraggio di che cosa si tratta quindi che cos'è questo pilastro l'abbiamo già detto 20 principi e diritti fondamentalmente articolati in tre rubriche quindi potete vedere pari opportunità e accesso al mercato del lavoro condizioni di lavoro e protezione sociale adeguata e sostenibile non vado quindi a ripetere quali sono i vari principi potete vedere nelle slide ma quando parlerò di attuazione mi riferirò a un paio di principi più concretamente a cosa serve il pilastro serve fondamentalmente a due cose prima di tutto è un quadro di riferimento per guidare l'azione dell'Unione Europea e per vagliare diciamo le performance sociali e occupazionali degli stati membri e stimolare e guidare le riforme a livello nazionale quindi prima di tutto un quadro di riferimento in secondo luogo il pilastro è destinato ad essere una bussola per un nuovo processo di convergenza verso migliori condizioni di vita e di lavoro ecco vedendo questo si può capire perché il focus è stato specificatamente sulla zona euro ma il pilastro è rivolto a tutti gli stati membri i principi i principi e diritti si basano sulla normativa esistente a livello europeo e anche principi e diritti sanciti a livello internazionale questi principi e diritti vengono però integrati in modo da tenere conto di nuove realtà ad esempio quando parliamo di ambiente di lavoro sano sicuro e adeguato c'è un aspetto importante e moderno che è il rispetto della privacy e dei dati personali nell'ambiente di lavoro quindi questo è un aspetto più moderno rispetto alla normativa esistente oppure il focus sull'istruzione la formazione e l'apprendimento permanente come anche diciamo la riconciliazione tra vita professionale e vita privata qual è il valore aggiunto del pilastro il pilastro è un documento relativamente breve che riunisce tutti questi principi in un unico documento e li rende più visibili più comprensibili e anche più operativi per cittadini e per coloro che sono chiamati a applicare questi principi c'è da dire che dunque il pilastro è stato varato come una proclamazione interistituzionale e quindi è un impegno politico ma non è un documento giuridicamente vincolante quindi questi diritti e questi principi esistono già nella normativa europea per la maggior parte ma per diventare effettivamente vincolanti devono necessitare di misure specifiche o atti legislativi o normativi attuati a livello appropriato possono essere iniziative europee oppure degli stati membri se vi interessa sapere di più su cosa significano i singoli principi qual è la base giuridica da dove vengono questi principi che cosa vogliono dire e anche che cosa l'Europa sta facendo su questi principi e qual è il ruolo degli stati membri e delle parti sociali noi abbiamo preparato un documento che è disponibile anche in italiano e che descrive veramente ci sono delle schede per ognuno dei 20 principi c'è una spiegazione dettagliata di che cosa vuol dire e che cosa si sta facendo ecco quindi vi invito potrei anche circolare questo questo link dopo la presentazione così per la vostra documentazione ecco per quanto riguarda sì come finisco questa parte dicendo che la proclamazione è stata importante perché perché non bastava che fosse la commissione a raccomandare questi 20 principi diritti noi riteniamo che fosse necessario avere un impegno interistituzionale al più alto livello perché e qui passo alla seconda parte della presentazione sull'attuazione perché per attuare il pilastro è chiaro che non può la commissione agire da sola o solo l'Unione Europea il pilastro è un impegno politico e una responsabilità condivisa tra Unione Europea e livello di stati membri ci sono le parti sociali che giocano un ruolo importante anche la società civile ha un ruolo importante principalmente la politica sociale e occupazionale è una responsabilità degli stati membri e quindi a loro è rivolta l'attenzione per tradurre questo pilastro in qualcosa di concreto per i cittadini è importante anche sapere che i principi diritti del pilastro rappresentano una visione comune però è anche vero che questo è uno strumento molto flessibile che non prescrive un approccio unico per tutti è molto importante rendersi conto che ci sono diversità nell'Unione Europea tra gli stati tra le differenti regioni e che ci sono anche situazioni di partenza diversi o mezzi disponibili che sono diversi e quindi il pilastro ha una visione comune ma allo stesso tempo riconosce la flessibilità e il campo di azione a tutti i livelli in modo tale da adattare le risposte ai bisogni e alle condizioni reali per quanto riguarda l'Unione Europea e in particolare la Commissione il nostro ruolo è quello di definire un quadro comune dare degli orientamenti strategici legiferare dove questo sia necessario e attivare strumenti come i fondi europei noi siamo impegnati anche a integrare le priorità del pilastro all'interno di tutte le politiche dell'Unione Europea e a dare un seguito a questo pilastro attraverso iniziative specifiche che possono essere legislative o non legislative siamo anche impegnati a sostenere gli stati membri e le parti sociali la società civile nell'attuazione del pilastro attraverso appunto come dicevo prima fondi e orientamenti strategici nello slide potete vedere appunto alcuni degli strumenti che possiamo mettere in atto a livello europeo e mi soffermerò su alcune iniziative in particolare il primo strumento è il diritto dell'Unione Europea come ho detto all'inizio ci sono 60 anni di azioni concrete per i lavoratori e per il sociale quindi c'è un corpo normativo sostanziale che però in alcuni aspetti deve essere diciamo aggiornato e integrato ad esempio per far fronte alla situazione di lavoratori atipici e il mondo del lavoro che cambia quindi la normativa la normativa europea noi appunto la valutiamo proprio alla luce dei principi e dei diritti del pilastro alcune iniziative concrete che sono state prese recentemente le vorrei evocare brevemente abbiamo proposto una direttiva sull'equilibrio tra attività professionale e vita privata per genitori e prestatori di assistenza questo è un esempio di come modernizziamo e integriamo la legislazione perché c'è una direttiva già esistente che però andiamo noi a integrare con alcuni diritti aggiuntivi e modernizziamo e rafforziamo praticamente qui con questa direttiva introduciamo il congedo di paternità e il congedo per prestatori di assistenza rafforziamo il congedo parentale e estendiamo il diritto di chiedere modalità di lavoro flessibili questa iniziativa riflette direttamente il principio numero 9 sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare una seconda iniziativa legislativa è una proposta di direttiva per migliorare la trasparenza e la prevedibilità delle condizioni di lavoro anche qui la proposta diciamo modernizza e completa un testo legislativo già esistente da 25 anni e andiamo a migliorare praticamente l'informazione che i lavoratori devono avere sui loro diritti all'inizio di un impiego allo stesso tempo la direttiva stabilisce nuovi requisiti minimi per migliorare le condizioni di lavoro lo scopo qual è? garantire che tutti i lavoratori anche quelli con contratti atipici beneficino di maggiore prevedibilità e chiarezza sulle loro condizioni di lavoro ecco quindi vediamo che in un mondo del lavoro che cambia sostanzialmente c'è veramente bisogno di coprire e garantire protezione per tutti anche i lavoratori atipici un'altra proposta però in questo caso non si tratta di una proposta legislativa ma di una raccomandazione sulla protezione sociale per lavoratori subordinati autonomi ecco qui è una raccomandazione che intende anche qui estendere la protezione a lavoratori atipici e autonomi e garantire praticamente che tutti i lavoratori possano versare contributi e abbiano accesso alla protezione sociale ad esempio le prestazioni di malattia e di disoccupazione sappiamo che una quota crescente di persone circa il 40% nell'Unione Europea lavora con altri tipi di contratti non a tempo pieno non indeterminati e spesso ci sono delle disparità e questi lavoratori non hanno un adeguato accesso alla protezione sociale anche questa iniziativa come quella precedente non l'ho detto questa iniziativa riflette direttamente il principio 12 del pilastro quella precedente non l'ho detto ma si riferisce direttamente al principio 5 occupazione flessibile sicura e il principio 7 informazione sulle condizioni di lavoro e sulla protezione in caso di licenziamento quindi vedete come una serie di principi diritti noi li traduciamo in normative al momento comunque queste normative si trovano sono delle proposte e la Commissione Europea appunto le ha presentate al Parlamento Europeo e al Consiglio e i due co-legislatori stanno negoziando discutendo queste proposte che speriamo vengano adottate presto così da diventare diritti effettivi per tutti i cittadini un altro importante un altro importante aspetto della normativa europea è l'applicazione effettiva cioè non solo creiamo diritti ma dobbiamo anche applicare quelli esistenti in modo migliore e su questo fronte la Commissione agisce ad esempio con delle linee guida sull'applicazione di normative esistenti come ad esempio sul tempo di lavoro o più recentemente la Commissione ha presentato una proposta per creare un'agenzia europea un'autorità europea del lavoro proprio per applicare in maniera più efficace la normativa europea sulla libera circolazione passo adesso brevemente a parlare a accennare solo il semestre europeo e i finanziamenti dunque per quanto riguarda il semestre europeo qui siamo nel settore degli orientamenti strategici agli Stati membri dicevo all'inizio che la Commissione europea usa il pilastro per guidare le riforme degli Stati membri per avere una convergenza verso risultati migliori e il semestre è appunto lo strumento privilegiato per questo perché il semestre consente un'analisi approfondita di ogni paese e una risposta approfondita proprio alle sfide che ogni paese ha e quindi permette quella personalizzazione o quell'adattamento delle risposte alle situazioni reali dei paesi mentre la normativa europea è più uniformante la mia collega parlerà in particolare del semestre comunque sul semestre c'è da dire che un altro aspetto importante è il monitoraggio che il semestre europeo ci consente di fare anche grazie a un nuovo strumento di monitoraggio si chiama quadro di valutazione della situazione sociale che con degli indicatori ci permette di valutare e di osservare nel tempo come la situazione dei paesi si evolve e fare dei confronti tra diversi paesi non da ultimo viene il sostegno finanziario ovviamente ne parlerà maggiormente la mia collega il pilastro è la guida fondamentale per la nuova generazione di programmi che la commissione europea ha recentemente presentato per il periodo dopo il 2020 per investire nelle persone e per maggiore coesione sociale un altro punto importante che vediamo anche nella slide è il dialogo sociale a cui la commissione dà un'importanza fondamentale anche perché le parti sociali hanno un'importanza fondamentale nella realizzazione del pilastro da ultimo vorrei giusto concludere dicendo che il pilastro europeo non è solo un'iniziativa concreta per affrontare sfide di oggi ma rientra anche nel dibattito sul futuro dell'Unione europea a cui accennava la collega all'inizio come sapete c'è un dibattito in corso che al più tardi si concluderà l'anno prossimo prima delle elezioni europee e recentemente la commissione europea ha aperto una consultazione pubblica che sarà aperta per un anno intero fino al 9 maggio dell'anno prossimo proprio per chiedere ai cittadini direttamente quale futuro vogliono per l'Unione europea io mi fermerai qui vedo se ci sono delle domande allora grazie Annalisa Cotone scusate intanto riavvio la webcam abbiamo finora ricevuto una domanda di carattere generale quindi penseremo di porre al termine di tutti e due gli interventi se le due relatrici sono d'accordo perché non riguarda specificamente l'oggetto di questa presentazione ma potrebbe anche comportare diciamo una risposta più articolata da parte di entrambe sono contenta che sia stata citata la consultazione pubblica sul futuro dell'Unione europea sono 12 domande un questionario in tutte le lingue rivolto a tutti i cittadini disponibile cercando su internet consultazione pubblica futuro dell'Europa estremamente importante perché ovviamente i temi sociali sono temi di straordinaria importanza per i nostri cittadini c'è la possibilità di rispondere alle domande con campo aperto quindi con possibilità di dire effettivamente la propria e ovviamente per noi è importante sollecitare tutti a farlo eventualmente al termine di questo webinar potrebbe essere allegato anche una slide o un'immagine relativa al sito dove si trova questa consultazione pubblica direi che a questo punto passiamo la parola direttamente a Cinzia Masina per il secondo intervento come vi dicevo Cinzia Masina vice capo unità dell'unità responsabile per Italia Danimarca e Svezia nella direzione competenze della direzione generale occupazione e affari sociali e inclusione della Commissione europea grazie mi sentite? buongiorno non so se mi sentite state dormendo tutti vedo che Annelise è stata così brave che farò fatica a uguagliarla quindi vi scuoto un po' vedo vi chiedo domande vedo che le domande languono quindi se c'è qualcuno che magari vuole farci vuole attivarsi e scrivere bene ci farebbe piacere vediamo se siete svegli ecco vi sfido a questa cosa buongiorno a tutti io sarò farò un intervento molto più terra terra concreto perché mi occupo di fondi oltre che del semestre e quindi vi parlo in soldoni cosa che magari poi quando vi arrivano le domande dovrete rispondere a parte dei cittadini potrete anche dare qualche cifra qualche elemento più concreto adesso devo capire come si fa ad andare avanti questo qua sì io ho messo una slide che non è molto significativa semplicemente per darvi un'idea della struttura della nostra direzione generale che è occupazione affare sociale e inclusione c'è un signore in mezzo che si chiama Yostcorte che è il nostro direttore generale da qualche mese e poi tante direzioni per un totale di oltre 800 persone corrispondiamo un po' al ministero del lavoro in Italia e alle agenzie che da esso dipendono come l'AMPAL facciamo un po' tutte le cose che fanno i colleghi in Italia al ministero del lavoro io sono vice capo unità in un'unità che si occupa del semestre europeo e dei fondi il fondo sociale lo IOG e il FEAD per tre paesi l'Italia la Svezia la Danimarca perché siamo insieme è perché per ragioni così storiche e di ripartizione del carico di lavoro non ci sono altre similitudini probabilmente non chiedetevelo quindi facciamo il semestre europeo cosa vuol dire che per ognuno dei nostri tre paesi seguiamo questo processo di governance economica e di seguito delle riforme legislative economiche sociali in atto in un paese si chiama semestre perché cominciamo verso settembre e finiamo verso marzo ad analizzare tutto quanto di nuovo si è fatto vedere se corrisponde a quanto l'Europa il consiglio europeo quindi i capi di stato e di governo si erano autoraccomandati in sostanza nel giugno e nel luglio precedente e soprattutto con la legge di bilancio che viene più o meno presentata in autunno in ogni paese e con le intenzioni legislative e quanto è in atto appunto all'esame per attuazione e poi per attuazione nei parlamenti e poi nell'amministrazione pubblica dei paesi membri quindi noi dei nostri tre paesi come funziona questo sistema semplicemente che una persona per ogni direzione generale rappresenta i riunioni congiunte dentro la commissione il proprio settore specifico quindi c'è la persona degli affari economici c'è la persona delle adici industrie ci siamo noi tutte le direzioni generali ricerca ambiente clima eccetera e si fa un'analisi appunto settore per settore e si arriva alla compilazione di un rapporto paese dopo aver sentito le parti sociali le ONG le amministrazioni rilevanti con missioni specifiche che si svolgono anche queste alla fine dell'autunno e si arriva poi con un dialogo continuo da parte tra noi e sempre queste parti sociali alle emanazioni di raccomandazioni specifiche a paese prima in proposta da parte della commissione e poi dopo adottate ai capi di stato di governo quest'anno siamo ancora a un processo intermedio la proposta della commissione verteva sulla situazione macroeconomica quindi l'alto debito pubblico italiano tutta una parte relativa alla situazione un po' precaria della giustizia del funzionamento della giustizia la politica anticorruzione antievasione fiscale si parlava della necessità di diversificare i finanziamenti alle imprese e poi la parte nostra che riguarda la parte la fornitura diciamo così di politica attiva e del lavoro che ancora non è perfezionata in base alle intenzioni del legislatore mi riferisco al job tech alla partecipazione femminile sul mercato del lavoro e a tutta l'area competenze a questo proposito volevo rispondere alla domanda che è apparsa sullo strumento per la determinazione delle competenze dei cittadini dei paesi terzi sì l'Italia lo sta testando quindi la direzione migrazione del ministero del lavoro che è incaricata appunto dell'integrazione dei migranti in Italia e che ha intrapreso sicuramente a quanto so io maggio era l'ultima informazione che avevo una fase di test di questo strumento per quanto riguarda gli altri paesi dell'unione europea so che è un po' a macchia di leopardo quindi alcuni paesi come la sveta che conosco un po' meglio avevano già i loro strumenti e quindi sono un po' più resti non per ragione ideologica ma perché praticamente stanno già usando altri strumenti che avevano sviluppato da prima essendo tradizionalmente grandi recettori di profughi faccio chiudo la parentesi quindi nella raccomandazione si parlava di competenze competenze in generale quindi competenze digitali competenze di base competenze misurabili con i grandi parametri del semestre europeo quindi il numero di laureati nella fascia d'età dei giovani adulti eccetera eccetera quindi queste sono un po' le grandi aree delle raccomandazioni di quest'anno che non si prevede saranno rivoluzionate dal passaggio appunto in consiglio europeo io avevo qua delle slide perché è una mia presentazione un po' standard sul pilastro lascio stare perché Annalisa è stata molto più brava di me quindi corro e e corro e arriviamo invece ai fondi quindi nella nostra unità gestiamo questi tre fondi che cosa servono questi fondi a mettere in atto quelli che sono gli orientamenti politici quindi le raccomandazioni specifiche paese e i principi del pilastro quindi sono i fondi al servizio della politica di quale bilancio parliamo sappiamo che sono programmazioni settennali in linea con i grandi orientamenti del bilancio comunitario e quindi c'è la programmazione 14-20 per la quale il fondo sociale ha circa 86 miliardi di euro l'Italia parlo cifre così grossolane più o meno 11 e per darvi un'idea di comparazione la svezza meno di un miliardo ok per la Iog che è il fondo specifico a supporto della garanzia giovani c'erano originariamente oltre 3 miliardi che sono stati poi rinnovati con per il momento un miliardo poi la cifra successiva ancora in discussione per l'Italia oltre mezzo miliardo per la Svezza 40 milioni il FIAD che è il fondo di assistenza materiale alimentare ai più svantaggiati vedete le cifre ecco l'Italia aveva il più grosso programma europeo in questo settore qua è un fondo che deriva da un ex fondo di uso degli accessi alimentari che poi è stato trasformato appunto per il sostegno sociale ed è passato dalla direzione generale agricoltura alla nostra scusate molte salsioni in inglese perché le uso in termini un po' ecco generali però credo che non ci saranno problemi delle commenti in italiano se avete poi bisogno comunque questi sono riferimenti al trattato dell'Unione Europea che ovviamente è disponibile anche in italiano non voglio tediarvi con delle basi giuridiche giusto per farvi capire che il fondo sociale europeo prima è un fondo che esiste fin dall'inizio dalla nascita dell'Unione Europea 60 anni ormai e ha due basi una è la coesione sociale e l'altra è proprio quello di sostegno al lavoro e alla mobilità dei lavoratori quindi in questi due articoli potete trovare proprio la spiegazione di cos'è il fondo sociale e che cosa serve viene gestito congiuntamente con delle autorità di gestione che sono negli stati membri in Italia sono i ministeri l'AMPAL e le regioni e ci sono dei tassi di confinanziamento variabili a seconda del grado di sviluppo delle regioni quindi le regioni un po' più in difficoltà beneficiano di un tasso di confinanzamento europeo più alto 50% i programmi sono strutturati per programmi operativi cosa vuol dire che si fa un progetto all'inizio insieme all'autorità interessata che presenta un'analisi della situazione sul terreno che presenta la sua strategia e poi un piano finanziario che spieghi quali sono le azioni che si vogliono intraprendere appunto per mettere in atto questa strategia in Europa ci sono 187 programmi operativi ne abbiamo ben 29 in Italia faccio la faccina così perché ogni programma operativo per quanto sia rappresenta tanta burocrazia tanto lavoro di gestione quindi con 29 programmi devo dire che siamo quelli forse che hanno più lavoro anche se insomma sia la Spagna che la Germania che il Portogallo che la Francia e la Polonia hanno deciso comunque di prendere la strada di programmi regionali anche perché le competenze del lavoro e della formazione molto spesso costituzionalmente sono attribuite alle loro regioni o ai lander in Germania per esempio quindi ovviamente come in Italia è e le regioni mantengono questa competenza quindi 29 programmi 21 sono regionali Bolzano e Trento ne hanno ognuno una perché sono regioni scusatemi province autonome quindi hanno la loro competenza in queste materie e poi ce ne sono 8 nazionali me li leggo perché mi perdo anch'io ce ne sono 2 in capo all'AMPAR quindi l'autorità di gestione e l'AMPAR il grande programma nazionale per le politiche attive e il programma per la garanzia giovani poi c'è un programma gestito dal ministero del lavoro quello che è il programma per l'inclusione sociale che gestisce il REI per capirci il REI di inclusione sociale che è già cominciato da qualche mese nella sua fase di sperimentazione ma piuttosto estesa ci sono dei programmi che fanno capo all'agenzia di coesione territoriale che sono un programma per il miglioramento della capacità amministrativa che si chiama PAN Governance e poi PO città metropolitane che è suddiviso in 14 subprogrammi per ognuna delle città metropolitane incentrato sulla lotta alla povertà per quanto riguarda la fronte sociale c'è un programma dedicato alla legalità gestito dal ministero degli interni in cui si fanno molte azioni di lotta alla criminalità organizzata e di sostegno all'integrazione dei migranti e poi ci sono due programmi del MIUR del ministero dell'istruzione dell'università ricerca appunto il programma ricerca e il programma scuola quindi un quadro molto completo che va a toccare veramente tutti i settori e come vedete molti dei settori che abbiamo avvocato prima con il pilastro e con le raccomandazioni specifiche paese andiamo avanti e vi ho dato qui i quattro obiettivi tematici in cui si concentra e in cui opera il fondo sociale ho messo dei numeretti così perché è il codice un po' il gergo interno che usiamo noi derivanti dalla regolamentazione e soprattutto dal regolamento disposizione comuni e tutti gli altri dall'uno al set sono quelli di competenza della DG Regio quindi dei programmi di sviluppo regionale e abbiamo quindi i grandi settori occupazione inclusione sociale istruzione e pubblica amministrazione sappiate che degli diciamo degli 11 miliardi in capo all'Italia per questo settennato un 20% sono sull'inclusione sociale un 40% sull'occupazione un po' più del 30% sull'istruzione e poi ci sono le bricele diciamo così per l'amministrazione pubblica e per anche l'assistenza tecnica ovviamente in Svezia per la pubblica amministrazione non si spende nulla non ce n'hanno bisogno non hanno destinato nessun fondo su questa priorità vi parlo appunto sempre della Svezia mi direte che scocciatura è perché la gestisco la gestiamo nella nostra età quindi faccio un confronto che mi parla di più e spero che vi parli altrettanto abbiamo poi un'altra set che parla di questo fondo specifico IOG che si chiama IEI in inglese e che è un fondo che è stato destinato nel pieno della crisi come segnale politico da parte dell'Europa per veramente mostrare che l'Europa si preoccupava e voleva fare qualcosa per questa generazione che rischiava di diventare una generazione perduta e combattere quindi la disoccupazione giovanile e il fenomeno dei NID quindi i giovani che come sapete non fanno nulla non sono iscritti a nessun corso non frequentano l'università nella scuola non lavorano e non sono in uno stagio o in un apprendistato quindi è un fondo che si può essere utilizzato solo nelle regioni che hanno un alto tasso di disoccupazione giovanile che era stato vestato al 25% in Italia erano tutte incluse fuori che la provincia di Bolzano e Trento e il Veneto anche se Trento e il Veneto avendo comunque dei tassi vicini al 25% alla fine hanno beneficiato di una flessibilità che era in seta nei regolamenti e che permetteva alle altre regioni di cedere un 10% della loro quota e quindi così è stato fatto nella programmazione quando è stato poi negoziato questo programma unico in cui ogni regione tranne Bolzano è un organismo intermedio che ha contatti con noi direttamente e poi abbiamo il fondo appunto che si chiama FEAD il fondo di cui vi dicevo che serve all'aiuto materiale e alimentare per le persone veramente ai margini della società le persone che hanno veramente bisogno più di tutti e ci sono due tipi di programma a livello europeo quattro paesi la Svezia Danimarca l'Olanda e la Germania hanno voluto fare un tipo di programma che si avvicina più a un'inclusione sociale perché ritengono di non avere a loro interno un gruppo obiettivo che rispondano a questa definizione di estrema povertà e quindi fanno un tipo di lavoro un po' diverso mentre gli altri 24 paesi fanno proprio il classico la classica assistenza con cibo e materiale quindi in Italia si fa tutto attraverso il ministero del lavoro nella direzione generale inclusione sociale e c'è un programma in piedi che attraverso gli organismi intermedi molto rodati sul terreno distribuisce il materiale nelle menze scolastiche tramite pacchi aiuto alle famiglie nelle menze scolastiche essenzialmente questi sono i grandi assi su cui si lavora quindi vedrete anche voi avrete l'occasione di avere visto di questi tipi di distribuzione sappiate che dietro sempre c'è comunque una copartecipazione dell'Europa dico copartecipazione perché purtroppo il nostro intervento non è sufficiente quindi si fa ricorso anche a donazioni e ad altri interventi soprattutto di organismi non governativi che lavorano in questo settore parliamo adesso invece del futuro abbiamo parlato ci sono sette anni di programmazione qua siamo già alla futura programmazione cosa succederà dal 2020 in poi le proposte sono state presentate l'avete già detto in tanti adesso c'è una discussione che dovrà avere luogo tra con i legislatori quindi il Parlamento e nel Consiglio e il nostro obiettivo sarebbe quello di arrivare a una loro adozione prima auspicatamente delle elezioni europee che avranno luogo tra un anno la nuova architettura possiamo dire di essere piuttosto soddisfatte perché ci sembra abbastanza appunto favorevole alle politiche sociali ci vedete nel bilancio settennale di questa cifra spropositata che non riesco neanche a leggere nella parte verde a sinistra 442 miliardi nella politica di coesione e dei valori e lì dentro vediamo se riesco a leggere c'è tutto lo sviluppo regionale e la politica di coesione ci sono gli strumenti che servono a sostenere l'unione economica e monetaria e poi c'è il programma cioè il punto il sub heading investing in people investire nelle persone nella coesione sociale e nei valori di cui il fondo sociale ESF plus come si chiamerà fa parte sono 442 su 1279 quindi una fetta consistente comunque di questo nuovo bilancio lo vedete presentato in un altro modo siamo sempre sotto il secondo heading quello verde e vedete il punto 7 investing in people social cohesion and values quindi è importante secondo noi sottolineare c'era stato un sforzo da parte nostra di influenzare questa proposta investire nelle persone far vedere che l'Europa non investe soltanto nei mercati e nelle banche ma anche nelle persone e quindi questo legame col pilastro dei diritti sociali questo impegno dell'Europa per le persone emerge così forse più chiaramente con le parole dentro appunto questo questo cappello come vedete ci sono coesione e valori c'è il punto 5 tutta la politica regionale c'è il punto 6 la politica economica e monetaria il punto 7 non c'è solo il fondo sociale più ma c'è anche il grande il grande programma simbolo bandiera Erasmus Erasmus più c'è il corpo europeo di solidarietà ci sono altri fondi più piccolini ma ugualmente importanti che sostengono le politiche di giustizia e c'è il programma di Europa creativa tutta la parte culturale e mediatica veniamo quindi al nostro programma il nostro programma fondo sociale più come vi dicevo un'ambizione sociale piuttosto piuttosto intensa 27% comunque della politica di coesione abbiamo una montare concreto per la prima volta fin da ora sappiamo che si parlerà di 101,2 miliardi a prezzi correnti e come vi dicevo per richiamare l'intervento di Annelisa una forte connessione con il pilastro europeo dei diritti sociali e quindi vediamo che il fondo sociale perché si chiama più perché porta insieme ricongiunge in un intenso di semplificazione 5 fondi che finora erano stati soddivisi cioè il fondo sociale tale e quale lo conoscevamo questo famoso yoga di cui vi ho parlato che serviva e serve per il sostegno della della garanzia giovani il fondo per gli indigenti e poi altri fondi un pochino più piccoli che continueranno a essere gestiti in gestione diretta e indiretta da parte della commissione l'ex easy per quelli di voi che lo conoscono quindi gestioni di azioni pilota o di azioni innovatrici e poi il fondo per la salute che rientrerà in questo grande tappello ma continuerà a essere gestito dai colleghi della dg salute qui dentro alla commissione sarà un fondo più flessibile in quanto la flessibilità tra fondi diversi per esempio col fondo di sviluppo regionale sarà aumentata da 10 a 15% e ci sarà comunque continuato questo legame col semestre europeo di cui vi parlavo fin dall'inizio quindi le raccomandazioni specifiche paese saranno portate e sostenute dai nostri fondi ecco il pilastro come dicevamo e poi un'attenzione che viene mantenuta su quelli che sono i problemi della occupazione e disoccupazione giovanile dell'inclusione sociale e l'integrazione dei migranti quindi c'è una regolamentazione comune a vari fondi strutturali il fondo di sviluppo regionale il fondo marittimo per la pesca e la politica marittima e anche l'AMIF o come si chiama in italiano ma non me ne ricordo comunque il fondo per la migrazione e l'integrazione tutti questi fondi continueranno ad avere una regolamentazione comune e in questa regolamentazione comune sono ribaditi appunto i legami col semestre e con il pilastro ci sono delle connessionalità macroeconomiche legate al semestre che sono mantenute una cosa nuova che forse vi interessa quando parlerete con i vostri interlocutori è quella di sapere che ci sarà una mid term review quindi una revisione a medio termine vuol dire che gli impegni per gli ultimi due anni non potranno essere fatti e questi fondi per gli ultimi due anni dovranno essere lasciati diciamo così liberi per vedere poi quali saranno le priorità politiche in quel momento dopo 5 anni di programmazione e vedere se è il caso di continuare quella lì non se invece magari le cose sono cambiate nel frattempo perché abbiamo proposto questo perché si è visto che nella programmazione scorsa abbiamo fatto un po' fatto che al momento della crisi economica non c'erano più fondi disponibili perché tutto era già stato impegnato e quindi per evitare di ritrovarci senza fondi e per far fronte ad eventuali priorità inaspettate si è deciso di operare in questa maniera e poi vabbè ci sono dei dettagli un po' tecnici come la questione della riserva di performance diciamo così che finora si era pensato di dare un piccolo premio che arrivasse a certi obiettivi di performance ma ciò ha generato parecchie complicazioni a livello proprio programmatico e quindi abbiamo deciso di non continuare con questo 5% tra l'altro che era piuttosto insignificante dal punto di vista finanziario ecco vi dicevo c'è un regolamento questo qua disposizioni comuni applicabili a tutti i fondi ci sono nell'ESF Plus vi ricordate il cappello con tutti i vari sotto capitoli diversi modi di gestione il FEAD che godeva di una semplificazione piuttosto spinta proprio per il suo la sua natura del suo modus operandi continuerà a goderne e quindi avrà regole un pochino diverse e più più semplici rispetto agli altri fondi e continuità per quanto possibile con gli elementi ancora con gli elementi esistenti abbiamo cercato di non stravolgere la struttura regolamentare proprio per permettere di passare da una programmazione all'altra senza soluzione di continuità cosa che invece molte volte si è verificata quando i mutamenti erano troppo importanti ecco questi sono gli obiettivi specifici del fondo sociale più come vedete sembra un po' la ripetizione non dei 20 ma di quasi tutti i 20 principi del pilastro quindi cosa sosterrà il fondo sociale più questi grandi principi che potete leggere che sono molto molto simili molto in connessione con quelli del pilastro ecco vediamo un po' qualche qualche cifra vi dicevo 101,2 miliardi di cui 100 per il classico fondo sociale che scusate comprende anche il FEAD e lo YOG vedete che ci sono qualche c'è qualche regola quindi il 25% di questi 100 devono essere destinati a misure di inclusione sociale di cui almeno 2% per l'ex FEAD per azioni corrispondenti a quelle dell'ex FEAD ci deve essere un 10% destinato ad azioni per sostenere i giovani per i stati membri che hanno un alto tasso di NIT e poi ci sono piccole relativamente piccole buste destinate alle regioni ultraperiferiche ad azioni transnazionalità e poi altre azioni come vi dicevo che saranno in gestione diretta o indiretta molto più piccoline è chiaro che si richiederà una sinergia a coerenza con gli altri fondi strutturali a montare appropriati per sostenere le raccomandazioni specifiche paese queste le altre cose ve le ho già dette quindi non c'è direi altro da dire se non che appunto si continuerà con le azioni tipiche ex FEAD cibo e assistenza materiale e direi che non ho altro da dire ho finito qua se avete domande siamo per rispondere ovviamente anche Annelise ancora qua di San Camè quindi vi vi ascoltiamo grazie grazie a Cinzia Masina che ci ha dato veramente le ultime notizie che è uscito soltanto otto giorni fa la proposta relativa al fondo sociale europeo plus quindi è un quadro veramente recentissimo allora noi in realtà domande non ne abbiamo ricevute tranne quella a cui Cinzia Masina ha già dato una risposta durante il suo intervento però credo che sarebbe interessante e utile per noi avere una riflessione su come si posiziona l'Italia rispetto agli obiettivi e alle sfide poste dal pilastro e in particolare proprio alla luce del country report e quindi del semestre europeo e delle raccomandazioni che sono rivolte al nostro paese scusate stavo facendo le operazioni non ho detto in effetti che nel rapporto paese era contenuto quello che Annelise ha chiamato in italiano con una parola che non mi ricordo ma anche noi chiamiamo lo scoreboard da buoni italiani lo diciamo in inglese il quadro di valutazione in sostanza mi dispiace non averlo preso qua avrei dovuto ma ve lo posso fare per venire è una comunque è nel rapporto paese è una tabellina in cui si riprendono vari indicatori significativi statisticamente a livello europeo e che rappresentano ognuno un principio del pilastro e poi si valuta il paese a seconda della sua performance non siamo riusciti ad avere 20 indicatori che avessero una valenza statisticamente significativa a livello europeo ce ne sono sono se non sbaglio 11 e abbiamo fatto questo esercizio per tutti i paesi appunto dell'unione europea e abbiamo colorato in varie gradazioni perché ciò avesse un impatto visivo dal verde profondo quando tutto va bene e il paese è tra i best performance al rosso profondo quando invece ci sono problemi appunto per raggiungere questo obiettivo rispetto evidentemente alla media europea allora vi posso dire che la Danimarca è il paese che ha il migliore scoreboard di tutta l'unione quindi io sono privilegiata li vedo è tutto bello verde come un semaforo che invita il via libera la Svezia non ci è tanto lontana e vi devo purtroppo dire che l'Italia invece è lontana essendo avendo molti rossi e arancioni veramente ve lo vorrei far vedere magari lo cerco un attimo mentre l'anelisa risponde a un'altra domanda oppure qualcuno me lo cerca così lo mandiamo alla fine e ve lo facciamo vedere è chiaro che se uno scoreboard per l'Italia non vale per ogni realtà italiana questo lo sappiamo e che sappiamo che se lo facessimo per regioni o per anche tagliassimo l'Italia a metà per esempio il quadro sarebbe purtroppo ben diverso quindi per l'Italia del nord forse non saremmo tanto lontani dalla Svezia mentre per l'Italia del sud è lì che ovviamente i problemi purtroppo si concentrano quindi l'Italia ha avuto certe raccomandazioni che si sono concentrate sui problemi più pressanti ma non vuol dire che non ce ne siano altri purtroppo nello scoreboard si vede come anche altri settori che magari non erano nelle nostre immediate preoccupazioni invece emergono come problematici faccio solo l'esempio che mi ricordo qui quello della situazione della sanità l'indicatore era basato sulle percezioni non era basato su elementi misurabili e quindi quanto riportato dai cittadini a come servizio fornito o bisogni non soddisfatti dal servizio di sanità pubblico era una situazione piuttosto preoccupante cosa che invece non pensavamo per la sanità pubblica non avevamo ecco questa percezione forse perché ovviamente viviamo all'estero e ovviamente il sistema sanitario nazionale è piuttosto comprensivo completo e non pensavamo che ci fosse invece questa situazione di bisogno non soddisfatto da parte dei cittadini o non a questi livelli ecco quindi questo è soltanto un esempio che vi dà un'idea di quanto ci sia comunque da lavorare non soltanto su quelle poche in fondo raccomandazioni specifiche paese ma anche su altri tipi di problemi che poi se leggete tutto il documento delle raccomandazioni specifiche paese appena sarà pubblicato vedrete che ne considerando si fa cenno anche ad altre situazioni soprattutto per quanto riguarda la povertà è chiaro che in una situazione in cui il REI è stato varato beneficio di una linea di finanziamento costante ripresa dalla legge di stabilità non si poteva raccomandare all'Italia di agire ulteriormente in questo settore perché quanto era raccomandato negli anni precedenti era stato poi compiuto però è chiaro che il REI in questa dimensione non è sufficiente e soprattutto visto che il REI è una misura passiva che deve essere accompagnata da un'attivazione della persona e ciò deve passare attraverso i centri per l'impiego finché i centri per l'impiego quindi le politiche attive del lavoro non saranno completamente in piedi e funzionanti non funzioneranno adeguatamente neanche quelle passive quindi abbiamo concentrato l'attenzione sulle politiche attive del lavoro perché è da lì che deve passare anche la lotta alla povertà tale come è stata strutturata in questo momento non so se è sufficiente come risposta allora scusate ma ho dovuto riattivare l'audio dal mio punto di vista è estremamente interessante ma vorrei sollecitare anche i partecipanti se hanno delle domande trovo che il tema sia di estremo interesse per il nostro paese e mi aspetterei comunque qualche domanda io comunque ce n'ho una di domanda se nessuno le formula nel frattempo quali speranze ci sono che vada in porto la proposta così come disegnata dalla commissione relativa al fondo sociale europeo plus qual è l'atteggiamento che si respira rispetto a questa proposta l'atteggiamento io ovviamente ho contatti con le autorità diplomatiche dei nostri tre paesi per il momento non abbiamo non abbiamo relazioni negative anzi piuttosto positive quello che ho sentito io ecco ovviamente non ho contatti con i bulgari e i portoghesi quindi non ve lo potrei dire però ecco con i svedesi e gli italiani soprattutto non ci sono stati ecco è chiaro che i danesi poi hanno per esempio un tipo di politica messa in atto col fondo sociale che è tutta a sostegno della crescita e dell'imprenditorialità delle competenze delle persone che già lavorano avendo un tasso di disoccupazione attorno al 4% e quindi quello che li preoccupa più forse è questo legame con il pilastro essendo loro best performance avendo tutti i verdi profondi e avendo un tipo appunto un tipo di politiche finanzate dal fondo sociale un po' diverso non vorrebbero che questo legame diventasse troppo stretto e che fosse semplicemente a sostegno di chi invece non è ancora arrivato ai livelli migliori ma io mi sento di rispondere che uno livelli migliori non vuol dire essere arrivati al 100% comunque di quanto si può fare e che poi soprattutto il primo principio del pilastro è quello legato alle competenze sempre di attualità perché le competenze non sono statiche ma devono essere continuamente rinnovate soprattutto in un'economia di punta come quella danese ma insomma dico danese ma in qualsiasi contesto quando c'è un lavoratore in un settore di punta deve aggiornarsi anche se lavora già anche se l'economia va bene anzi ha maggior ragione quindi questo è un po' quanto vi posso dire così di prima partito io approfitto nel frattempo per rendervi noto che nella chat pubblica abbiamo riportato il link al quadro di valutazione al famoso scoreboard sull'opposizionamento dell'Italia per il 2018 quindi ciascun partecipante può cliccare e visualizzarlo ma stiamo cercando di visualizzarlo anche in diretta così magari possiamo le relatrici ci possono illustrare diciamo quelle che sono le aree critiche o che richiedono un maggior impegno da parte delle nostre amministrazioni eccolo qui Cinzia non so se vuole fare un commento in diretta io non lo vedo i famosi sono troppo piccolina però però sì ecco l'abbiamo zoomato grazie soprattutto se vogliamo analizzarlo alla luce in chiave comparativa rispetto diciamo che i best performer i paesi del nord Europa notoriamente sono best performer su questo fronte quindi magari potrebbe essere utile analizzarlo in confronto a paesi che diciamo sono più simili a noi diciamo che non è proprio questo qua non era contenuto in slide era proprio un documento vediamo se questo qua sì questo comunque dà un'idea sono un po' sono altri parametri ecco però più o meno sono sono questi come potete vedere tra la da rimarca che è tutto verde e scuro e l'Italia questo qua già ho nella prima immagine i primi tre indicatori che sono tasso di occupazione tasso di disoccupazione e crescita del cos'è questo qua credo del prodotto interno loro no non riesco a capire che cosa sia questo lo sai tu GDHI per capita growth il reddito disponibile forse comunque anche se guardiamo solo i primi due ecco tasso di occupazione e tasso di disoccupazione vediamo la differenza tra l'Italia e la Danimarca per esempio o la Svezia in Svezia c'è un tasso di occupazione che è superiore all'80% quindi non è soltanto la gente che non lavora è anche la gente che non trova lavoro il tasso di disoccupazione si misura con le persone che non sono impiegate ma che stanno cercando lavoro c'è anche il tasso di occupazione quante persone partecipano a far crescere il paese attivamente lavorando ciò in Italia è basso anche per gli uomini rispetto ai paesi del nord e lì è più per le donne che sono forse all'ultimo al penultimo livello in in Europa il terzo intanto Annelise mi stava dicendo in effetti è il reddito disponibile per famiglia per famiglia poi sarebbe anche interessante ovviamente vedere l'evoluzione ci sono indicatori che sono migliorati con l'andare del tempo e non dovremmo ecco come vi dico piangere soltanto ci sono per esempio il tasso da madonna scolastico è qualche cosa che è molto migliorato nel nostro paese legittimale quindi non è necessariamente tutto solo negativo però la situazione relativa è chiaro che la differenza tra l'Italia e altre realtà è piuttosto forte non so se volete scendere che vi commentiamo anche gli altri sotto lo vedo questo signore Ottavio Lorenzano che dice non è il confronto che è interessante beh certo non è che ci basiamo solo sul confronto questo come vi dicevo è una misura un po' grossolana facilmente visibile e che quindi ci dà un'idea così di primo acchito non è questa l'analisi più accurata e raffinata che stiamo facendo è un modo per visualizzare quali possono essere i problemi come vi diceva Annelisa appunto lo scoreboard vuole aiutarci a una convergenza verso l'alto e quindi si fa un confronto non tanto per dire tu sei bravo tu sei cattivo non è questo il discorso ma cercare di portare tutti verso l'alto ecco questo è un po' poi è chiaro che come vi dicevo ogni paese lo fa a modo suo quindi prendiamo un altro esempio il livello dei salari che garantiscono una vita dignitosa ai lavoratori è ovvio che la formazione salariale si fa con modi molto molto diversi da un paese all'altro nel nostro paese o anche nei paesi scandinavi tutto ciò è rimesso alle parti sociali le discussioni sulla fissazione per questo che in Italia non c'era detto minimo per esempio un salario minimo scusate mentre in altri paesi in Francia il governo interviene pesantemente nelle contrattazioni e fissa appunto con atti governativi legislativi i livelli salariali quindi per arrivare a questa convergenza non si indicano le strade e i metodi da utilizzare le strade per correre si lasciano liberi gli stati membri di seguire ognuno il proprio modello sociale diceva Ottavio Lorenzano concorda una convergenza competitiva priva di coesione nazionale beh insomma diciamo che poi ecco continuiamo a valutare anche gli effetti delle politiche nazionali e quindi quando uno degli altri elementi uno degli altri ecco stavo vedendo qua nello social scoreboard ci sono cioè l'impatto dei trasferimenti sociali nella riduzione della povertà i bambini che di meno di tre anni che sono iscritti in un sistema di di scolastico formale l'altro di cui vi dicevo per quanto riguarda la salute i bisogni non soddisfatti il livello di competenze digitali c'è sempre ci sono sempre gli altri grandi indicatori come i livelli di povertà misurati con le percentuali di persone a rischio di povertà o a rischio di povertà e deprivazione materiale ecco quindi ci sono un sacco di elementi che soprattutto Annelisa forse puoi dire qualcosa perché lavori proprio su queste su queste materie magari le lascio la parola se vuoi commentare su ecco l'aspetto povertà e coesione sociale la lascio parlare grazie Cinzia no volevo giusto dire appunto che lo scopo dello scoreboard non è appunto semplicemente un confronto di dire tu stai facendo male tu stai facendo bene ma è appunto perché come dicevo all'inizio della mia presentazione lo scopo del pilastro e quindi di tutti gli strumenti come questo strumento colorato che stiamo visualizzando cioè lo scopo è quello di promuovere una convergenza verso migliori risultati a livello di occupazione e a livello di inclusione sociale e questo perché come abbiamo detto prima altrimenti c'è un pericolo proprio per l'esistenza stessa dell'unione economica e monetaria quindi questo è l'obiettivo originario dell'iniziativa di coordinare meglio l'aspetto sociale e le politiche economiche e quindi osservare l'andamento di indicatori fondamentali a livello appunto di mercato del lavoro e situazione sociale ci permette di anche personalizzare e focalizzare gli interventi ad esempio sull'Italia la mia collega parlava di raccomandazioni paese quelle servono proprio per indirizzare guidare le riforme dei vari paesi in base alle loro esigenze e esigenze e anche sfide e difficoltà concrete quindi questo è uno strumento analitico e non uno strumento diciamo di vergogna o di appunto di penalizzazione perfetto grazie molte io approfitto solamente per segnalare che nella chat abbiamo riportato anche il link allo scoreboard quindi coloro che fossero interessati ad approfondire i diversi indicatori lo possono fare direttamente accedendo a questo link claudia vedo che c'è un'altra domanda se la vuoi porre sì dunque la domanda che ci è stata posta e che rivolgiamo alle due relatrici per il sostegno ai migranti possono partecipare anche associazioni e le quali passano soltanto dalle agenzie nazionali e dalle regioni o anche attraverso la gestione diretta allora è chiaro che il sostegno ai migranti l'integrazione ai migranti si fa un po' mainstream quindi attraverso tutti i programmi operativi per il momento quindi immagino che sarà per il futuro la stessa cosa attraverso bandi pubblicati sia dalle regioni che ognuna a loro interno a seconda dei bisogni ha dei progetti specifici o non specifici perché possono essere anche appunto integrazione di persone svantaggiate integrazione di lavoratori in situazione di mancanza di lavoro non specificano la provenienza quindi non ci sono ragioni particolari di identificare o meno i migranti ci sono programmi specifici come vi dicevo con la legalità tutto per il fondo sociale passa attraverso la gestione dell'autorità nazionale e regionale poi ci sono anche dei programmi dei progetti in gestione diretta in questo adesso non ho più la slide ma comunque in quello che vi dicevo ex easy questi progetti pilota progetti di buone pratiche che vengono gestiti direttamente quindi da bande dell'Unione Europea quindi li pubblicheremo ma non me ne posso dire più perché non è la mia unità quindi non sono molto esperta in questo ma ci sono ci sono sì sì anche se ovviamente gli importi piuttosto limitati rispetto ai grandi alle grandi cifre di cui vi ho parlato ecco che sono quelle gestite dalle autorità nazionali regionali in Italia perfetto grazie molte noi ci stiamo avviando alla chiusura quindi non so se Claudia vuole aggiungere qualche altra cosa a me preme tantissimo ringraziare sia le colleghe della commissione per la loro gentilissima disponibilità e per averci supportato in questo webinar ovviamente grazie anche alla rappresentanza della commissione vi ricordo siccome ho visto che molti partecipanti sono arrivati nella piattaforma un po' in ritardo ricordo a tutti che da lunedì sarà disponibile sulla pagina dell'evento la registrazione del webinar con la pubblicazione di tutti i materiali vi ricordo anche il nostro prossimo appuntamento con la programmazione 14-20 ma con uno sguardo al post quindi al futuro periodo di programmazione che realizzeremo giovedì prossimo il 14 giugno in collaborazione con l'agenzia per la coesione e Claudia non so se tu vuoi aggiungere qualche altra cosa semplicemente ringraziare tutti voi per l'organizzazione di questo webinar compresi anche tutti i responsabili informatici per aver reso possibile assolutamente grazie di cuore colleghi della rinnovazione digitale senza il cui supporto assolutamente questi webinar non sarebbero possibili grazie Claudia per avercelo ricordato speriamo che sia stato interessante per tutti grazie grazie e al prossimo appuntamento allora grazie ancora buon lavoro a tutti al prossimo appuntamento arrivederci arrivederci grazie a tutti grazie a tutti